La polizia continua a indagare sul caso del 14enne Retino che si sarebbe dato fuoco per una sfida sul social network TikTok. Si cerca di capire se il gesto sia stato indotto da qualcuno per sfida o altro e dunque se ci siano le condizioni per una denuncia. Il ragazzo al secondo giorno delle vacanze pasquali avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori, forse per lanciarsi in una Fire Challenge, competizione tra coetanei via social. Armato di alcol e fiammiferi, una vampata lo avrebbe investito all'improvviso procurando gli ustioni sul 50% del corpo. Soccorso dai vicini è stato poi trasportato con l'elicottero Pegaso del 118 all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer. Le sue condizioni starebbero lentamente migliorando, ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, il giovane resterà in coma farmacologico ancora qualche giorno, poi sarà sottoposto ai primi autotrapianti di pelle.